Una trasferta con la squadra, quattro biglietti vip e due e record di Rocco in un anno di fan-talking. Steven Zahn, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, ma anche Robin Gosens e Alessandro Antonello. Questi sono soltanto alcuni dei nomi dei personaggi incontrati di persona da Rocco. Sfegatato tifoso dell'Inter che in 365 giorni di avventura come possessore di fan-talking ha riuscito con passione e costanza a vincere premi su premi ed esperienze su esperienze. A un anno esatto dalla sua iscrizione, infatti, il sostenitore Nerazzurro ha celebrato l'anniversario elencando agli altri membri della community i propri traguardi. Leggendoli ci si rende subito conto di quanto Rocco sia l'esempio vivente dell'obiettivo centrato dalla piattaforma, nessuna barriera tra protagonisti del mondo dello sport e appassionati, più vicini di così. L'elenco del tifoso è davvero ricco per un solo anno di fedele militanza, ma spicca senza dubbio la trasferta europea di Champions League in casa del Bayern Monaco, volo con la squadra. Stadio, sessione di autografie e addirittura cena con il CEO corporate del club. Alessandro Antonello. Se in Baviera non c'è stato poi da esultare sul piano del risultato. Le soddisfazioni Rocco se le ha prese con il biglietto VIP per la partita contro il Victoria Pilsen e per i due tagliando in ski box per il match con il Verona. Oltre alle due maglie ufficiali del Valencia e della nazionale portoghese, poi, c'è anche la memorabile Supercoppa vinta per 3-0 sul Milan e goduta in compagnia di un ex calciatore nerazzurro. Se il buongiorno si vede dal mattino, per il tifoso in questione il meglio deve ancora intervenire.